Silvia Tatti, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, davvero benvenuta qui nel posto delle parole per condividere insieme con noi il suo saggio, saggio pubblicato, curato insieme con Chiara Licameli, pubblicato da Quadlibet nella collana studio. Il titolo del libro è Scrittrici in esilio tra 8 e 900. Andiamo a scoprire la scrittura femminile di quel tempo attraverso quello che ci dirà Silvia Tatti che ha già dedicato tra l'altro altri libri proprio alla scrittura dell'esilio, vero Silvia Tatti? Sì, ho pubblicato un volume esuli nel 2021, scrittori e scrittrici dell'antichità oggi che ripercorre la storia del tema dell'esilio nella civiltà occidentale a partire dalle radici bibliche fino al 900, seguendo appunto le connessioni che esistono fra gli scrittori e le scrittrici che vivono esperienze di esilio oppure metaforizzano l'esilio e che rintracciano nella tradizione precedente un linguaggio comune. Ciò che rafforza la loro condizione fornisce anche una sorta di vocabolario di base in grado di comunicare un'esperienza tragica come quella dell'esilio sia che sia vissuta come proprio dispatrio per motivi politici o religiosi sia che sia vissuta come condizione esistenziale come avviene in modo sempre più radicale nel 900 e nel 2000 anche quindi questo è stato un po' l'origine di questo interesse per la scrittura dell'esilio e all'interno di questo volume c'era un capitolo dedicato proprio alle scrittrici perché lavorando su tutte le scritture dell'esilio mi sono resa conto che esiste, che poteva esistere mi sono interrogata sulla esistenza o meno di una specificità di una scrittura dell'esilio al femminile e questo volume che raccoglie dei saggi di diverse studiose voleva proprio essere un'indagine per rispondere a questa domanda esiste una specificità della scrittura al femminile dell'esilio quali sono le caratteristiche, se ci sono perché chiaramente poi non esiste una risposta univoca però già il fatto di porsi l'interrogativo presuppone che esiste una possibilità di una prospettiva nuova E in questa prospettiva nuova questo saggio ci conduce ricorda i nostri ascoltatori che Silvia Tatti insegna letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma tra l'altro lei è presidente dell'Associazione degli Italianisti che cosa vuol dire essere presidente di questa associazione Silvia Tatti? L'Associazione degli Italianisti raccoglie tutti i docenti di letteratura italiana delle università italiane e anche di diverse università straniere e il compito dell'associazione è quello di coordinare i lavori coordinare un po' tutto ciò che riguarda la ricerca tutto ciò che riguarda la didattica e tutto ciò che riguarda anche le questioni istituzionali quindi essere presidente è una grossa responsabilità nel senso che si tratta di collocare la disciplina della letteratura italiana all'interno del sistema universitario di decidere un po' quali sono anche gli orientamenti e poi non solo quindi una questione istituzionale universitaria però stiamo valorizzando molto anche la funzione dell'associazione per coordinare iniziative scientifiche ci sono diversi gruppi di ricerca all'interno che raccolgono studiosi di ambiti specifici che trovano un contenitore all'interno dell'associazione anche un modo per valorizzare le ricerche per creare collaborazioni quindi è un impegno devo dire ad ampio raggio all'interno del quale poi un ruolo importante per i prossimi anni soprattutto sarà rivestito dall'internazionalizzazione perché puntiamo molto sulla costruzione di una rete di italianisti nel mondo proprio perché bisogna continuamente riaggiornarci e capire in che direzione va la disciplina e per far questo è importante creare un dialogo costante delle occasioni di incontro e quindi faremo anche una grandissima riunione di tutte le associazioni degli italianisti nel mondo nel luglio del 24 a Firenze che stiamo già preparando in cui appunto rifletteremo sulla nostra disciplina dal punto di vista didattico, scientifico e delle collaborazioni possibili e nella discussione tra gli italianisti non può non entrare anche il tema degli scrittrici in esilio tra 8 e 900 ovviamente e volevo chiederle questo Silvia Tatti ma lei ha contezza di quanto noi oggi nel 2023 conosciamo la parola esilio? La parola esilio nel 2023 ci sono tanti studi in questa direzione è già una parola connotata da un punto di vista letterario perché in realtà le parole per indicare un'esperienza come quella dell'esilio sono molteplici ci sono le parole appunto rifugiato, espatriato, profugo il dispatrio è un'altra parola che viene utilizzata connotare l'esperienza con una parola è già una delle modalità più significative di interpretare l'esperienza nella scrittura femminile ad esempio esiste una scrittrice che è una scrittrice somala che è stata, che ha vissuto a lungo in Italia già a Bascego che ha inventato il termine di smatria proprio per connotare in modo più specifico come rapporto con la famiglia con la terra di origine con tutto ciò che è legato a una dimensione più femminile l'esperienza dell'esilio appunto la dismatria e nel volume che ho curato scrittrici in esilio fra 8 e 900 c'è anche un saggio di Rosanna Morace che parla della scrittrice Elga Schneider che fatica a collocarsi nel rapporto con la madre a chiamarla Mutti quindi c'è tutta una riflessione su quanto sia difficile definirsi in relazione al linguaggio quindi esilio diciamo viene da ex solum il termine latino è un termine che già di per sé nobilita l'esperienza quando Dante va in esilio e viene bandito da Venezia il termine che definirebbe secondo la giurisprudenza medievale la sua condizione è quello di bandito invece lui nella commedia si definisce un exul in meritus e definendosi un exul si ricollega alla tradizione latina e quindi nobilita in un certo senso la sua esperienza si ricollega a dicendo come quella di Cicerone che rovesciano di segno l'esilio lo trasformano invece in un motivo di orgoglio e di autoconsapevolezza superiore quindi il termine esilio è un termine che già è connotato perché appunto usare il termine esule o usare il termine migranti o profughi o espatriati implica già un giudizio di valore e quindi è molto il discorso sulla lingua sul lessico è diciamo uno dei primi strati di riflessione sull'esperienza dell'esilio forse quello che dà adito proprio a maggiori indagini perché la scelta delle parole non è mai indifferente e diventa quello che prendendo proprio come spunto il contributo a cui lei faceva riferimento poco fa quello di Rosanna Morace a proposito di esilio che non è semplicemente solo voglio dire uno spostamento geografico ma anche uno spostamento di linguaggio quindi lo spartiacque linguistico cui fa riferimento a Rosanna Morace diventa diventa importante e questo spartiacque che cosa comporta per in questo caso per le scrittrici che sono in esilio Silvia Tatti comporta un'autoriflessione sulla propria storia perché spesso l'esilio significa abbandonare la lingua d'origine abbandonare la lingua d'origine ecco qui possiamo anche dare un'indicazione di lettura più specifica al femminile abbandonare la lingua d'origine vuol dire abbandonare spesso un rapporto privilegiato con la madre con la famiglia quindi non c'è solo l'orizzonte culturale che è comune a tutti uomini e donne probabilmente per una donna ci sono maggiori implicazioni e che però possono essere lette in una duplice maniera perché il fatto di appropriarsi di una nuova lingua può voler dire anche questo riguarda soprattutto le scrittrici dell'ottocento del tardo ottocento di cui ci occupiamo appropriarsi di una nuova lingua spesso vuol dire anche appropriarsi di una nuova contappevolezza fuggire un po' ai condizionamenti legati all'educazione e a retaggi che possono essere anche retaggi di genere quindi una nuova lingua significa aprirsi una nuova vita e spesso per una donna non tanto nel novecento quanto più nell'ottocento aprirsi una nuova esperienza vuol dire assumere anche una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e quindi anche una maggiore coscienza autoriale perché il problema del rapporto fra esilio e scrittura femminile è che è un rapporto che si colloca in maniera duplice da un lato la perdita di riferimenti può significare così come per gli uomini un trauma difficilmente superabile può significare un momento di vuoto dall'altro però il fatto di dover rinunciare a tutto ciò che determina la propria storia e il proprio passato può anche significare un'apertura a nuove potenzialità e quindi per alcune donne l'esilio significa aprirsi a nuovi linguaggi aprirsi a nuove esperienze e sul piano della scrittura questo può significare come avviene nel caso di Cristina di Belgioioso la prodo la scrittura letteraria Cristina di Belgioioso concepisce finché si trova in Europa la sua scrittura in termini di utilità politica utilità sociale scrive articoli di giornale scrive interventi pubblici interviene nel dibattito politico ma la scrittura letteraria è sempre vista come una scrittura che per una donna era di difficile accesso c'era una sorta di condanna morale relativamente al romanzo che permane per tutto l'Ottocento e quindi Cristina di Belgioioso approda la scrittura narrativa una volta in esilio quando va a esule in Turchia dopo la Repubblica Romana va a esule per motivi politici comincia a scrivere racconti romanzi di argomento orientale in cui valorizza tantissimo la figura femminile e questo è uno di quei casi tipici in cui l'esilio comporta una nuova un'apertura di nuove strade nell'ambito proprio della scrittura letteraria poi ce ne sono anche altri anche più recenti c'è il caso di Ogotta Christophe che spatria dall'Ungheria alla Svizzera si appropria del francese e poi comincia a scrivere in francese e i suoi commenti i commenti che fa nella sua autobiografia in cui riflette sull'uso dell'abbandono dell'ungherese sull'uso del tedesco che era stata un'altra lingua che l'aveva utilizzato e sull'approdo al francese mostrano proprio questo percorso di costruzione di una nuova identità nasce sulle macerie sul trauma del passato ma che può aprire anche nuove strade Silvia Tatti la parola esilio e leggendo anche questo saggio scrittrici in esilio tra 8 e 900 scopriamo o riscopriamo che l'esilio è ovviamente legato ovviamente legato a un'eventualità di ritorno quindi c'è quella presenza di nostalgia di nostos ora ad esempio per citare il caso di Anna Maria Ortese Anna Maria Ortese era in esilio però neanche voleva ritornare fare ritorno a Napoli ora che tipo di esilio è in questo caso per esempio per la scrittura e per la posizione nei confronti dell'esilio da parte di Anna Maria Ortese beh il caso di Anna Maria Ortese che nel volume è studiato da Flavia Caporuscio è un caso di un esilio che non è tale nel senso tradizionale nel senso che Ortese vive lontano da Napoli per motivi propri e anche per scelta perché ha un rapporto conflittuale con la città però è un rapporto conflittuale che presuppone una sorta di rapporto quasi viscerale ma anche di contrapposizione e la prospettiva del ritorno in questo caso esiste molto poco perché in realtà è un esilio volontario quindi è un esilio non determinato da motivi politici o religiosi come nel passato è un esilio volontario che alimenta moltissimo questa tensione questo rapporto conflittuale con il luogo d'elezione è un rapporto che alimenta moltissimo la scrittura e la scrittura autobiografica di Ortese è proprio vivificata da questo rapporto così conflittuale però spesso l'assenza di ritorno è vissuta in modo tragico come nel caso di Maria Zambrano Maria Zambrano fugge dalla Spagna franchista e vive in una dimensione di non luogo perché un'altra categoria che è molto legata all'esilio è quella che una volta lasciata la patria la patria viene spesso misconosciuta questo rifiuto di una patria che è negazione che significa oppressione mancanza di libertà provoca il fatto che il luogo dell'esilio diventi un non luogo cioè non c'è più una patria e una non patria ma ogni spazio è un non luogo infatti nella narrativa nella scrittura di Maria Zambrano ci sono queste chiavi queste parole chiave che ricorda Elisabetta Sarmati che sono il deserto e l'isola è il deserto esistenziale e questa è una figura importante su cui vorrei ancora un po' indugiare esiliatati a proposito proprio di Maria Zambrano perché questo deserto esistenziale dell'esiliato comprende sì in questo caso la figura straordinaria di Maria Zambrano ma abbraccia anche altre storie perché questa esistenza diventa un deserto dal punto di vista dell'esilio perché nel caso di Maria Zambrano la tragedia dell'abbandono è talmente a parte che Maria Zambrano vive in esilio per 40 anni e vive in un esilio che è senza prospettive perché può concludersi solo con la fine della dittatura e quindi è un esilio che nasce da un'esperienza di violenza di guerra di oppressione fortissima e la dimensione la ricerca è proprio quella di una assenza di riferimenti che comporta una sorta di soppressione anche della possibilità della nostalgia non si può avere nostalgia per una patria che significa dittatura e perdita di ogni libertà e quindi questo deserto esistenziale rinvia proprio a questa assenza anche di prospettive perché una cosa è l'esilio dei patrioti risorgimentali che volevano costruire una nazione e che quindi avevano un progetto politico che volevano riaffermare e anelavano al ritorno perché in patria esisteva comunque una lotta per l'indipendenza esisteva anche un progetto politico una cosa è la dittatura che annienta qualsiasi resistenza che rende anche impossibile ogni prospettiva di ritorno produttiva e quindi la dimensione dell'esilio rimane la dimensione cioè è la dimensione che occupa tutta l'anima queste sono le definizioni che dà Maria Zambrano qualcosa che occupa interamente l'individuo quindi non è qualcosa di altro da sé è qualcosa che diventa la propria condizione esistenziale essenziale e questo è un po' il deserto esistenziale perdere i riferimenti non esiste più una patria e una non patria ma esiste appunto un deserto un non luogo perché non c'è una prospettiva ecco quindi questa è diciamo la versione quella di Zambrano forse più tragica dell'esilio anche perché Maria Zambrano ha una profondità speculativa di analisi di livello altissimo però quello che dice anche Maria Zambrano è che questa tragedia questa forza negativa questa negazione dell'esistenza comunque si trasforma nella volontà di dire nella volontà di testimoniare nella scrittura non testimoniare in positivo non testimoniare la volontà del ritorno ma testimoniare questa condizione di coincidenza assoluta fra esilio e dimensione intellettuale dimensione emotiva che è l'unica possibile resistenza contro una vita che altrimenti sarebbe una tragedia assoluta quindi l'assunzione dell'esilio l'interiorizzazione dell'esilio come forma di resistenza Silvia Tatti la condizione dell'esiliato o in questo caso delle esiliate queste scrittrici in esilio tra 8 e 900 quanto ci racconta la loro condizione di esclusione ce la racconta in generale come condizione di esclusione delle donne perché nel libro ci sono anche altri casi di esiliate come Louise Hamilton di cui parla Patrizia Guida che viene trasferita si trasferisce in Sicilia con la famiglia e percepisce una alterità nel contesto socio-culturale dell'isola che tocca in modo particolare proprio la donna che viene rigettata in ruoli tradizionali che quindi perde quella libertà che invece è una figura internazionale come Louise aveva e quindi esiste questa alterità soprattutto nell'Ottocento che è una condizione molto diffusa appunto Cristina Di Belgioioso in esilia approfitta per denunciare la condizione delle donne in Turchia per denunciarne l'esclusione quindi c'è una condizione già di partenza che le donne notano in modo più approfondito essendo esuli si soffermano hanno un occhio diciamo più acuto proprio verso la condizione femminile perché comunque l'esilio sradica tutti i vincoli e questo fa sì che la donna si ritrovi in una condizione di rinascita in un certo senso ecco se vogliamo vederla in positivo anche senza però troppo enfatizzare perché come diceva Eduard Said studiato da Franco Franco Sinopoli nel saggio che chiude il volume come diceva Eduard Said l'esilio è sempre una tragedia per quanto l'Ottocento lo abbia reso un fenomeno romantico un fenomeno eroico c'è sempre una dimensione di tragedia nel fatto di abbandonare la propria patria quindi le donne uniscono diciamo alla tragedia che caratterizza l'esilio di per sé una condizione di di alterità una condizione già di marginalità sociale che può riscattarsi nell'esilio che può aprire nuove strade ma può anche essere confermata dall'esilio in genere le scrittrici diventano scrittrici proprio perché interpretano questa dimensione di isolamento data dall'esilio in chiave di una nuova opportunità un'opportunità e quindi chi scrive diciamo ha già reagito in partenza ecco chi lascia una testimonianza scritta è perché ha già metabolizzato l'esperienza dell'esilio e ha deciso di reagire in modo produttivo cioè con la testimonianza perché chiaramente la scrittura dell'esilio è una reazione contro il silenzio che è contro la solitudine e contro la solitudine quindi diciamo che la donna scrittrice è già una donna che ha reagito ma poi nel caso dell'esilio ci sono anche tanti casi adesso penso alla moglie di Emanuele Modigliani Ida Modigliani che era stata Emanuele Modigliani è stato il pubblico ministero nel delitto Matteotti e quando espatrano in Francia passano moltissimi anni in Francia e in Svizzera dopo il delitto Matteotti la moglie scrive questo diario che si chiama esilio e lei registra soprattutto la vita del marito e la vita della loro comunità di esuli però lo fa in un modo talmente diciamo garbato e talmente intenso che lascia una testimonianza anche della sua individualità anche della sua reazione fortissima quindi nonostante diciamo l'intento fosse quello di una scrittura di servizio al servizio della storia al servizio della vicenda del marito e della comunità di esuli politici in realtà poi la dimensione che esce dalla scrittura è quella di un ritratto intimo di questa donna che aveva speso la vita per la famiglia ma che in realtà ci lascia una testimonianza di grandissima emozione scrittrici scrittrici in esilio tra 800 e 900 a cura di Silvia Tatti e Chiara Le Cameli è il libro che abbiamo attraversato nel corso di questa conversazione qui nel posto delle parole il libro lo ricordo è pubblicato da Quadlibet nella collana studio ma prima di salutarci Silvia Tatti qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Sto leggendo sempre per rimanere sul tema delle scrittrici Giumpala Iri il primo Homsic sto leggendo Giumpala Iri perché ho preso Racconti Romani che sarà il prossimo insomma volevo cominciare dal libro dell'esordio I libri di Giumpala Iri sono pubblicati se non ricordo male da Guanda sì esatto ed è sicuramente uno straordinario uno straordinario incontro ogni volta che che si che si si imbatte nella sua scrittura ricordo la prima volta che ho incontrato il scrittore di Giumpala Iri era con il vestito dei libri del 2016 credo ed è stato un incontro veramente straordinario fatto in ritardo lo ammetto ma in ogni modo in ogni modo mi sono ritrovato in questa scrittura molto molto bene grazie grazie davvero Silvia Tatti e buona giornata grazie a voi buona giornata grazie a tutti grazie a tutti